Fabrizio Caligara è trascorso circa un mese da quell'Ascoli cremonese che chiuse un po' con l'Amaro, un 2021 che per l'Ascoli tutto sommato era stato positivo. Sì, è stato un peccato chiudere il 2021 con una sconfitta, anche se avremmo avuto altre due partite per poter chiudere in un'altra maniera, però purtroppo a causa del Covid si è chiuso così, però è stato un anno positivo e dobbiamo continuare su quella linea d'onda che abbiamo percorso nel 2021. Ormai da più di dieci giorni è ripresa la preparazione, con che spirito, con che aspettative avete ripreso e vi siete ritrovati soprattutto? Con le stesse aspettative che quando siamo partiti a luglio abbiamo la stessa fame, anzi vogliamo fare ancora meglio del giorno dell'andato. Tante squadre in Serie B nelle ultime due settimane si sono trovate di fronte a quella che è l'incognita del Covid. Tanti club colpiti in maniera massiccia, fra questi appunto anche l'Ascoli. Come si prepara, come si riesce a lavorare con questo fattore che è quello dell'imprevedibilità, soprattutto dovuto al Covid? Penso che siamo arrivati a un punto che dobbiamo essere bravi a conviverci, siamo dei professionisti, quindi quello che ci dicono di fare facciamo, anche se sappiamo che è difficile perché magari fino a due giorni in plena partita siamo positivi e dobbiamo essere presenti alla partita. Venerdì l'Ascoli con l'anticipo aprirà la diciannovesima giornata, l'ultima del girone di andata. Che partita ti aspetti, soprattutto che partita avete preparato anche in funzione di quello che ci siamo detti, quindi delle tante defezioni, oltre al Covid anche quelle dovute alle squalifiche del capitano, Botteghin ed Eramo? Sarà una partita difficile come tutte, l'abbiamo preparata come prepariamo ogni partita su minimi dettagli. Peccato che purtroppo abbiamo una rosa corta per le defezioni che ci sono tra positivi e squalificati, però quelli che ci saranno daranno tutto quello che bisogna dare per la partita. Quanto sarà importante il carattere e soprattutto quanto sarà importante il temperamento in questa sfida? Sarà importantissimo, anche perché veniamo da 20 giorni di inattività, quindi non sarà neanche facile tenere il ritmo alto tutta la partita, quindi sarà fondamentale. A Liberati di Terni ci sono in palio tre punti che potrebbero far sì che l'Ascoli chiuda con il miglior girone di andata da quando era stato promosso in Serie A, quindi un motivo in più per fare meglio. Sicuramente sarà un motivo in più, ma penso che tutte le partite noi le affrontiamo con l'unico obiettivo di portare a casa i tre punti. Abbiamo sempre la solita mentalità. La Ternana ha avuto in casa un andamento molto regolare, quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Dove l'Ascoli deve limitare le eventuali incursioni dell'avversario? Sicuramente, come tutte le partite, vediamo i loro punti di forza, le loro carenze e cercheremo di mettere in campo quello che ci ha chiesto il Ministero. Grazie. Grazie a voi.